Brava, felicità! Grazie, grazie, grazie! Ah! Dai! Bravo! Attenzione, per disposizione della politica di sicurezza, l'ambiente della partita e l'imposte di presa dovranno attendere all'interno del vostro settore per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Ulteriori indicazioni verranno date da gli istituzionali. Grazie. Per questo dire, se per l'ordine della sicurezza pubblica sarebbe più conveniente non uscire lui era prima, lui era prima. Tieni la pausa, bravo Paolino, bravo! Sostituzione. Tu cazzo è andato? Ecco, sostituzione Brescia. A presto! Capere Brescia, a conto del numero tre, aprirà... il numero tre e vinci! Vinci, vinci! Vinci, vinci! E invece perde! Sinto! sono ponce invece bravo vinci ponce e vinci dai dai stai scrivendo lo sai che no? il re utero non la dà il re utero infatti nel primo tempo non la dà eccolo stavano ora due tre quattro quattro minuti quattro minuti in utero quattro minuti in utero quattro minuti quattro minuti attenzione per disposizione e che non è mai che non è mai se non è mai il sforzo del Brescia dovranno attendere all'interno del proprio settore per consigli di ordine e sicurezza pubblica continui le indicazioni verranno date da l'integuardi grazie C'è il cambio Il cambio del dressa al posto del numero 32 Corriani per il numero 11 Eh non si chiude la storia Non lo so Numero 11 Non so chi sia Non so chiude la storia No Ah è tra le Carli E tra Saulo La mia era politissima Non ci prego Non ci prego Non ci prego Cambio del Livorno Al posto del numero 8 Dionisi E tra il numero 5 Detali Grazie a tutti 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 Grazie a tutti